L'assessore alla cultura Alberto Parigi svela l'autore e l'opera del prossimo atteso appuntamento al ridotto del Teatro Verdi in calendario per venerdì 6 maggio. È un grande appuntamento culturale che unisce due giganti della cultura, tutti e due delle nostre terre, uno Carlos Grollorn e l'altro Pasolini. Una presentazione in anteprima nazionale che arricchisce di prestigio il calendario culturale del Comune di Pordenone. Accanto a questo ci saranno altri appuntamenti promossi dal Comune o comunque sostenuti dal Comune, ma credo che questa presentazione di questo romanzo possa definirsi l'incontro di punta. Come nasce questo romanzo? Lo chiediamo a Paolo Morganti, l'editore che detiene i diritti delle opere dello scrittore. Noi avevamo obbligato parecchi anni fa la sua autobiografia, La Penna d'Oro, e quindi avere la possibilità di continuare con tutti gli altri suoi libri sicuramente è una cosa che a noi riempie d'orgoglio. Qui a Pordenone presenteremo infatti in anteprima nazionale il primo libro che è Nel segno del fuoco, che è un libro ispirato a Pasolini, sulla storia di Pasolini, scritto da Sgorlon, che vede appunto vicini, tutto sommato, due eretici, anche se su posizioni diverse tra di loro, però che si capisce che sono due persone che in qualche modo volevano dire le stesse cose, anche se in maniera diversa. Dopodiché noi pubblicheremo man mano tutti gli altri libri, abbiamo 13 inediti di Sgorlon, nel secondo libro sarà La Notte del Ragno Mannaro, che uscirà in contemporanea, tra parentesi, dopo usciranno Le fiabe del figlio Venezia Giulia, che è stata raccolta da Sgorlon, che uscirà il mese prossimo, e poi via via tutti gli altri, dopo tutti i romanzi già pubblicati. La soddisfazione del presidente del Circolo Eureka, Mario Boranga. Per noi del Circolo Eureka è un grande piacere poter collaborare alla presentazione di questo libro inedito di Carlos Sgorlon. Abbiamo avuto il piacere di averlo a nostra ospite a una delle prime edizioni di Pordenone Pensa. Ricordo che ne abbiamo, è molto vivo, una persona di cultura multiforme e straordinaria. E aspettiamo con gioia l'evento di venerdì sera.